Comunico i risultati della votazione. Votanti 48, astenuti 1, schede nulle 0, schede bianche 15, schede valide 48. Hanno ottenuto voti Romoli, numero 33. Governatore Fedriga, un uomo come Romoli di esperienza alla presidenza affiancato da mazzolinea russa? Sì, penso che il Consiglio abbia fatto un'ottima scelta e sono convinto che in questo modo il rapporto fra esecutivo e Consiglio saranno ottimi. Anche nel discorso di insediamento del Presidente Romoli mi sembra che abbia voluto valorizzare quei temi che per quanto riguarda la giunta regionale sono fondamentali, ovvero la valorizzazione dell'autonomia con la rinegoziazione con lo Stato centrale delle compartecipazioni, maggiori competenze per il Prevenenza Giulia, la salvaguardia del diritto alla salute dei cittadini con la nuova riforma della sanità. Anche per noi sono punti fondamentali e nel rispetto dei ruoli e nella parità dei ruoli sono convinto che in questo modo Giunta e Consiglio lavoreranno al meglio insieme.